Benvenuti in questo nuovo video di SamuPro che non inquadra il nero perché mi sto facendo vedere Da me tanto il face reveal già ve l'ho fatto It's not a really a big problem Intanto io guardo il muro di là però Vi volevo dire che sapete che io carico video giovedì e sabato Questo... no è giovedì Mercoledì e sabato Questo mercoledì non potrò caricare video perché sono al mare Quindi il video che sarà la collaborazione con GX Ash e Casellino E GX Casellino vabbè sono tutte due GX Anche io guardo grazie Il video non lo potrò caricare domani perché sono al mare E lo dovrò caricare giovedì Giovedì verso la mattina perché Comunque quello stesso giovedì sarò a casa di un mio amico forse non lo so Cercherò di editare il prossimo episodio della Vanilla o domani sera O... non ne ho idea Cercherò di mettermi in pari E quindi sappiate soltanto che il video di mercoledì non uscirà mercoledì ma uscirà giovedì Invece poi da giovedì in poi ci saranno video comuni sabato e mercoledì cercherò di mettermi in pari Soprattutto con la Vanilla che devo registrare Devo sia registrare sia editare dei video della serie Vanilla E li vedrete più avanti Volevo soltanto dire Che il video di mercoledì non ci sarà mercoledì ma uscirà giovedì Tra l'altro io faccio cagare con questo taglio di capelli Me lo devo cambiare Me devo tagliare i capelli me li devo rasare Perché faccio cagare davvero con i capelli non li basta Me li devo tagliare Questo video di Samu che non inquadra il nero Mi sa che devo fare una serie Una playlist Samu che non inquadra il nero E Samu che inquadra il nero E dice robe Va bene Noi ci vediamo giovedì con il prossimo episodio della serie Vanilla Ciao Ciao